ciao Silvia, c'è Torino! ciao, ciao bella, stati bene mi raccomando, vattene la casa e ti appiccicare con nessuno ma chi era su? mi ha già fatto una telefonata? mi ha già chiesto ora, vai uè! ma guarda i fratelli di Torino? hai capito? non so come avere bella aria a schiattare hai capito? è naturale non so come i tuoi, che ti fai mesciuto il vino ma ma perché ti accettano a ricci? come stai facciando a pagina? mica stai a Parigi io tengo a pari che amocca tutti gli alicotteri in casa come stai schiattato? come ti significa che stai schiattato? stai non c'è il bagnamento? c'è il cileto? ma guarda da stavrenzi le guarda ma il lo so 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 ma il lo so